Parte che c'è stato anche da parte di Di Maio, l'avete letto, una lettera in cui ha riconosciuto che l'agonia mediatica non è di questo mondo, non apparterrà più al Movimento 5 Stelle. Glielo confermo e l'ho confermato. Ma cosa rimane? Perché era un DNA forte? Rimangono tante cose. Per esempio, sai cosa rimane? Rimangono i vecchi valori non negoziabili. La legalità, la lotta a tutte le mafie, anche le agromafie, l'etica pubblica. Vogliamo parlare di etica pubblica? Il Movimento avrà sempre questo tratto distintivo, anche nel nuovo corso. Cosa significa? Significa che c'è uno spazio per la responsabilità politica, che va distinta dalla responsabilità giuridica, in particolare penale. E cioè significa, guardi che i nostri costituenti hanno ricostruito l'Italia su basi morali, quando hanno scritto onore e disciplina nella Costituzione. E noi oggi, quando chiamiamo, scusi, i singoli parlamentari onorevoli, questo è un linguaggio molto preciso. Quindi c'è uno spazio per la responsabilità politica. Cioè tornerete a chiamarli onorevoli perché siete voi che avete voluto chiamarli deputati e non onorevoli? Io invece ritengo che onore e disciplina sia nella Costituzione. Ma allora scusi, affidabile. Grazie.